Allora, viviamo insieme questi momenti, allora, oh, vai ragazze, terzo classificato mister Cerelandia 2008, Gianluca! Complimenti Gianluca, il nostro calciatore. Allora, lui lo vediamo stilare per qualche secondo sulla passerella, l'ultima stilata, Coppa e Fiori. Secondo classificato. Ok, complimenti ancora Gianluca. Grazie Gianluca. Adesso il numero due, ancora, oh! Dai che ci siamo, forza! Su Spaz, su Spaz. Secondo classificato, Federico! Applausi, applausi! Applausi, applausi! Dai, Federico! Dai! Chi vogliamo con la faccia, Coppa! Pugnando, pilata di Federico, forza! Se la passerebbe. Dai, Federico! 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 Ti vogliamo con la faccia, Coppa, eh! Puoi dire, alle Coppa adesso, non mister... secondo classificato prima di dare il primo classificato